All'Ara Day con Marco Mezzapelle, il mezza come tutti lo conoscono da queste parti e non solo Ara Day è un giorno importante per Lo Grato, un giorno di festa in cui si incontra Pietro Penso sia non solo per la pallacanestro ma anche per lo sport di Lo Grato il giorno più importante Poter riavere qui il nostro Pietro che comunque è cresciuto sia statisticamente ma anche come ragazzo Qui ancora con noi è davvero un onore e un grande piacere soprattutto dovuto al fatto che Pietro è rimasto quello che era prima Un ragazzo di Lo Grato, un ragazzo semplice che tutte le volte che torna ha sempre una palca sulle spalle, un sorriso per qualsiasi amico Per quanto mi riguarda io sono particolarmente legato a Pietro, alle sue vicissitudini, ci sentiamo comunque spesso E averlo qui a disposizione di una comunità davvero è un grandissimo piacere Come è un grande piacere avere qui la gente di Cantù, la gente che gli sta volendo un bene dall'anima Per noi lo gratesi averlo a Cantù è un po' come averlo al sicuro, averlo in una culla Noi siamo sicuri che Pietro sta bene a Cantù L'obiettivo abbiamo fatto la tessera dell'Ara Fans Team e abbiamo la maglietta di Pietro Ufficiale del Fan Team Ara 21 Fan Team di Lo Grato Grazie a Mezza, non lo chiamiamo Marco perché Marco non lo chiama nessuno Grazie mille Mezza Grazie a voi, grazie se posso permettermi a tutto a Cantù per quello che trasmette a Pietro Pietro da quando lì è cambiato anche come persona secondo me Davvero per noi è un grande onore, è un grande piacere Quindi vi ringrazio ancora di cuore a tutti Grazie a Mezza Grazie a Mezza